Una delle artiste assergesi è Gianette, dall'Australia. Ecco, che cosa ti è piaciuto di Asserci? Perché sei rimasta da Asserci? Asserci perché la natura, la montagna, la quieta, la neve e tutto quello che offre la montagna, le camminate, la bicicletta. E che cosa ti ispira alla pittura? La pittura mi piace molto tutto quello che offre la natura, i tramonti, le albe, le montagne, mi piacciono anche i colori forti, anche le cose minime come i fiori, come gli animali, tutto ciò è naturale. Che cosa pensi di questa iniziativa di riunire un po' tutti gli artisti assergesi qui in questo parco? E' bellissimo. Più volte che si fa meglio è, perché uniti si lavora bene, ognuno ha la sua disciplina, ognuno è differente, ognuno ha qualcosa da offrire. E' bello essere proprio tutti così insieme. Grazie. Grazie. Grazie.